ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi in questo semplice video vedremo come poter sostituire l'ugello comunque il cosiddetto nozzle di una stampante 3d in particolare dell'artillery hornet cosa è successo praticamente nello sbagliare una stampa in che ho sbagliato lo slicer quindi ho fatto superficialmente lo slicer la stampa si è staccata io ovviamente non ero presente durante la stampa e si è accumulato una quantità di pl a vicino all'ugello e mi ha rovinato praticamente sia il piatto di stampa e in più ha rovinato l'ugello perché comunque se sicuramente siccome andava a strofinare continuamente su quell'accumulo di stampa si è rovinato l'ugello sia il foro e sia si è diciamo impregnato di tutto il materiale che non valeva la pena mettermi a pulirlo però comunque il problema è stato prevalentemente il fatto di aver rovinato il forellino dell'ugello del nozzle quindi in quel caso cosa succedeva l'estrusione non avveniva nel modo corretto il materiale non era perfettamente lineare durante l'estrusione e infatti non non mi aderiva nemmeno più la stampa questo problema relativo al fatto di aver sbagliato di impostazione all'interno dello slicer ovvero cura perché ho fatto superficialmente il file g code quindi poi non aderito bene la stampa è combinato un casino quindi in questo caso ho dovuto sostituire l'ugello e in particolare ho poi successivamente dovuto pulire per bene il piatto di stampa come vedete nelle immagini successivamente l'ho un pochino rovinato e poi ho dovuto sostituire anche il nozzle perché non mi aderiva più la stampa ho dovuto fare la ricalibrazione quindi potete ben capire che fare un g code perdere un po di tempo con il g code è davvero molto importante perché capire come orientare la stampa il pezzo di stampa dove metterlo se utilizzare supporti o meno o tutto quello che serve bisogna non essere superficiali perché ovviamente come in questo caso mi ha un pochino rovinato la stampante in particolare il piatto di stampa e l'ugello ho risolto perché comunque poi pulendolo per bene rimane un pochino l'alone ma ovviamente poi sostituendo anche l'ugello rifacendo la calibrazione della stampante è andato tutto a buon fine a questo punto passiamo e vediamo delle immagini della sostituzione l'ugello è quello che vedete lì nella parte in alto nel riquadro in alto a sinistra dove è presente una parte in silicone gialla che va rimossa ovviamente per effettuare il cambio bisogna farlo a ugello caldo perché altrimenti non riuscirete a svitarlo quello che ci serve sono delle semplici chiavi una bussolotto una normale chiave da 6 e in pochi e una chiave a pappagallo una pinza a pappagallo riusciremo in pochi secondi a tranquillamente rimuovere l'ugello e mettere quello nuovo comunque adesso passiamo alle immagini come vedete qui il piatto di stampa questo è il danno che ha fatto la stampa si è staccata tutto questo accumulo praticamente si andava a sfregare tra il piatto di stampa e l'ugello quindi come potete ben vedere ha rovinato sia l'ugello e sia il piatto di stampa ho provato comunque pulirlo però adesso sto evitando di stampare in quella determinata zona del piano quindi ripeto cosa bisogna fare a questo punto ovviamente ripeto perdete un po di tempo nel creare il g code affinché sia fatto nel modo ottimale allora a questo punto cosa bisogna fare bisogna svitare queste due viti rimuovere questo pezzo di plastica dove sono inserite le le varie ventole dotarsi di una chiave a bussola questo qui perché perché dobbiamo lavorare ad ungello caldo quindi poi in qualche modo dobbiamo estrarlo ci serve una chiave m6 dei cacciaviti torx io ho preso questi perché le chiavi in dotazione sono un pochino scomode quindi potete utilizzare anche quelle tranquillamente presenti all'interno della confezione che già vi danno iniziamo quindi a svitare le due viti per accedere alla parte interna quindi andiamo a liberare questa parte per lavorare ovviamente in modo agevole e riuscire a rimuovere l'ugello quindi svitiamo queste due semplici viti torx comunque per mezzo delle chiave seagonale anche in dotazione e andiamo a rimuovere il pezzo la copertura in plastica qui ci sono le due estremità le due ventole estremità fan zero quindi non potete sbagliare e staccate gli spinottini fan zero sono le due ventole alle estremità a questo punto siamo pronti a iniziare la fase di smontaggio però prima cosa andiamo come vedete anche nelle immagini sono andato a rimuovere ovviamente il filamento come faccio vado a preriscaldare il nozzle vado nelle impostazioni all'interno della stampante faccio l'espulsione del filamento come vedete fare un'estrusione pulite il tutto e attendiamo il tempo necessario affinché il nozzle venga riscaldato e il filamento venga espulso magari aiutandolo un attimino la bobina a riavvolgere in modo tale di non avere intralci con il filamento successivamente cosa andiamo a fare andiamo a vedere effettivamente la temperatura del nozzle in questo caso siccome io avevo già fatto il preriscaldamento per l'espulsione del filamento era già caldo ma va impostato una temperatura del nozzle a 200 gradi più o meno la temperatura di stampa del pla quindi se non avete già riscaldato andate effettuate l'impostazione successivamente andate e togliete la protezione in silicone a questo punto dotiamoci di una pinza pappagallo perché dobbiamo mantenere lo tendo che quella parte metallica che dove è avvitato il lugello perché è molto caldo se l'abbiamo impostato una temperatura di 200 gradi qui in questo caso state attenti dove mettete la pinza in quanto sono presenti i fili sia della resistenza che va a riscaldare lo tend e sia il termostato comunque il termistore che va a rilevare la temperatura io in questo caso inizio a ovviamente con un ugello caldo a svitare con una chiave m6 giusto all'inizio successivamente prendo una chiave a bussolotto e vado a rimuovere come vedete il lugello in quanto è una temperatura di 200 gradi successivamente lo rimuovete per mezzo della pinza pappagallo in quanto ancora è caldo da notare che era molto rovinato a questo punto io ancora ho in sostituzione un ricambio uso questo che mi è stato dato in dotazione e lo inserisco nella nella chiave a bussolotto e inizio ovviamente mantengo quel quadrettino lo tendo in modo tale da tenerlo comunque fermo perché nel momento in cui andate a svitare l'ugello si si va a spostare quindi inizialmente lo stiamo attenti a metterlo un pochino dritto non un pochino dritto che sia ovviamente dritto come vedete lo mantengo in questo modo affinché sia dritto dopo una piccola stretta con la chiave d'ugello con la chiave a bussolotto scusate successivamente prendo la chiave m6 e do una stretta per bene state attenti che sia perfettamente allineato lo do un giusto una sistematina e ovviamente come vedete poi vado ad inserire la parte in silicone ma questa qui ovviamente per poterlo fare bisogna raffreddare raffreddare il nozzle quindi si va in temperatura portiamo a zero la temperatura attendiamo che sia bassa in modo tale poter inserire la protezione in silicone in questo momento era sui 40 gradi ho voluto mettere comunque la protezione in silicone la sistemata per bene e successivamente andate al ritroso mettete i connettorini delle due ventole del del coperchio fan 0 quelle all'estremità sono i vari spinottini per le due ovviamente è scritto anche sulla scheda ma avete tolto solo quelli quindi è facile dare inserirli lì andate a reinserire prendete le viti che avete precedentemente tolto e riavitate il il coperchio che va a coprire tutto il nozzle e l'hot end inserite le due viti il procedimento è stato fatto tranquillamente io successivamente dopo aver sostituito il nozzle ho dovuto rifare ovviamente la ricalibrazione come vedete adesso è pulito ed è perfetto è effettivamente risolto il tutto con la semplice sostituzione del nozzle reinserite il reinserite il il filamento ed è tutto ok